È stato un derby speciale, i derby sono sempre difficili, aver avuto una vittoria sul campo ha fatto bene alla Juventus e a tutti gli juventini e soprattutto è stato un bel momento perché lo stadion era vivo, ci sono stati le bandiere, ci sono stati i cori, ci sono stati i tamburi e non vedevamo questo spirito, non vedevamo questa vitalità da prima del Covid, dunque questo è molto positivo, è molto positivo per la Juve e sono molto contento e grato a tutti i tifosi che erano lì di avere animato e dato vita a questo bellissimo stadium che abbiamo.